L'importanza di questo evento sta proprio nel tema che noi abbiamo dato all'evento, cioè valorizzare la cultura. La nostra è una congregazione che fin dalla fine del 1600 ha a cuore la cultura, perché la nostra fondatrice Rosa Venerini nel 1685 aveva intuito che la radice del male era proprio nell'ignoranza, nel non conoscere, nel non sapere. Quindi l'evento si inserisce all'interno di questo nostro DNA che abbiamo come Maestre P. Venerini. Noi siamo dedicate in modo particolare all'educazione, alla formazione, lavoriamo nelle scuole, lavoriamo nelle realtà parrocchiali e cerchiamo appunto di aiutare le persone a far emergere da ciò che hanno dentro tutte le possibilità perché possano vivere la loro vita pienamente. Noi per la prima volta quest'anno abbiamo diviso l'evento Venerini dei in due giornate particolari, perché inserendoci nel Pesaro, capitale della cultura, era giusto dare uno spazio specifico per la cultura. Quindi venerdì 10 noi incontreremo presso il teatro sperimentale dei personaggi sia del territorio ma anche fuori che ci permetteranno di fare delle riflessioni sulla cultura e sulla possibilità che la cultura dà di riscattarsi. Ci sarà il professor Stocchi, ex magnifico rettore di Urbino, che adesso è il rettore a Roma, dell'Università di Roma, la professoressa Michelini e verrà Maurizio Ortale che porterà un'esperienza di vita, perché Maurizio Ortale è il presidente dell'Associazione Paternostro di Brancaccio a Palermo, l'associazione voluta da Dompino Cuglisi e dimostrerà come la cultura serva a tirar fuori i ragazzi da situazioni discutibili. In più verranno le ragazze dell'Albania, della nostra scuola Ambasciatori di Pace, a presentare delle danze sulla luce, sulla ricerca della luce. E poi il soprano, suor Cristina Alfano, di frammenti di luce e il maestro di coro, don Maurizio Lieggi. Il sabato invece tutti i bambini delle scuole, no tutti, insomma i bambini delle scuole che verranno a Pesaro presenteranno il loro senso della cultura, perché noi abbiamo definito in questa occasione la cultura come una sinfonia di situazioni diverse che si uniscono per crearla. È un incontro che riunisce e solidifica quel senso di appartenenza e ci permette a noi adulti di riconsolidare il carisma della fondatrice.